Ciao a tutti ragazzi, buoni in questo nuovo video, sono Frank93, oggi faremo una gara su Forza Horizon 4 perché nell'episodio precedente vi avevo mostrato giusto le mie auto, un po' le mie cose, ora faremo una gara oppure raga faremo qualche attività, magari gare, insomma quello che c'è su Forza Horizon 4 faremo qualche attività Grazie Ok ragazzi, ci vediamo alla fine del caricamento Ok, ci siamo Oggi che auto uso? La Pontiac, no Vabbè, uso l'Audio R8 Allora Vediamo raga di trovare qualche attività Tipo raga, pensando bene, una... che si raga, una gara Abbasso il volume un pochettino Allora, apriamo la mappa Non c'è che non è una mappa Allora Allora E sì Questa Una gara Che mi incuriosisce, quindi facciamo questa Aspetta raga Ogre Quarta Quinta Quinta Grazie a tutti. Ok. Le terapate non mi vengono molto bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.